Musica Cari amici telespettatori di San Marino Web TV e Golosi del Titano e non solo un buon pomeriggio da Axel Paderni Come vedete siamo qua a Dogana, alla gelateria Sweet Line e siamo qua perché ci sono delle novità in serbo Quindi rimanete collegati e scopriamone di più Ci ha raggiunto nuovamente Gianluca Mosconi il titolare della gelateria Torniamo qua perché ci sono delle novità, insomma il periodo invernale normalmente è fermo per la gelateria ma non per voi No, è il nostro momento dove ci stimola di più e soprattutto in questo particolare momento dove siamo ancora costretti a stare in casa per il nostro amico Covid Noi proponiamo tante alternative, questa settimana abbiamo proposto sette gusti tipo merendine, tipo Kinder Bueno, tipo Galac con gli Smarties Abbiamo il Bounty, abbiamo il Ferrero Rocher, abbiamo lo Snickers e tanti altri gusti per incentivare, per addolcire questo momento di ancora Covid che ci sta attenagliando Però siamo molto contenti, fino a domenica ce li abbiamo, sono otto gusti nuovi, molto golosi per tutti i bimbi e adulti La prossima settimana invece faremo sei gusti vegani, proporremo a tutti i vegani che ha purtroppo intolleranza al lattosio o quant'altro Delle novità per i gusti vegani e anzi approfitto di questa occasione per cercare poi tramite loro di capire quali sono i gusti preferiti per poi proporli per tutta la stagione estiva Insomma le altre gelaterie sono chiuse ma voi siete sempre attivi? Eh sì, questo ci stimola ancora di più dato che loro fanno le fiere invernali, noi le abbiamo fatte poco prima di Natale E quindi adesso spingiamo tutto a tutto gas per promuovere questi nuovi gusti, queste nuove offerte E concludiamo con un'altra novità della stagione, è presentata dalla signorina Elisabeth Insomma questo dolcetto qui non vede l'ora di essere mangiato, che cosa, come è composto? Allora questo dolcetto qui non è altro che un tortino al cioccolato rivisitato, quindi versione gelateria Ed è composto da il tortino al cioccolato, una crema di Nutella, una panina di gelato e della panna montata Molto buono, chi non ama il tortino al cioccolato? Io di certo lo amo Pure io, quindi direi che è il dolce ottimo, perfetto per quando fa freddo, quando c'è l'inverno Insomma anche d'estate noi lo mangiamo Bene amici telespettatori di San Marino Web TV, vi ringraziamo di essere stati con noi Vi invitiamo qui alla giulateria Sweet Line, qui in piazza Enriquez, qui a Dogana E ci vediamo nel proseguo dei programmi di San Marino Web TV Da Axel Paterni è tutto e buon appetito!